Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi come ogni mercoledì scopriremo insieme le creazioni in colla a caldo Vi ricordo sempre che qui troverete il sondaggino per scegliere il nuovo personaggio per la prossima settimana E niente, bando alle ciance e cominciamo, vediamo chi ha vinto Vi posso dire che questi personaggi che hanno vinto hanno vinto con l'80% al sondaggio Allora, per primo ve ne faccio vedere uno perché ce l'ho già pronto e l'ho fatto al contrario Quindi subito si vedrà qual è la creazione E hanno vinto i Simpsons Sono felicissima di questa scelta perché mi piacciono come personaggi Ed ecco qui, qui vabbè dovrò ritagliarli Ecco qui Homer e Marge E' carinissimo, è del tanto lucido perché l'ho fatto al contrario Adesso guardiamo gli altri Allora, ho fatto diversi personaggi dei Simpsons Non solo i personaggi principali E qui c'è il Signor Bones Che ho fatto oro e verde per simboleggiare l'oro E i soldi che sono verdi in America I dollari Ed è veramente carinissimo Toro questa sua posizione quando si mette così Eccellente Comunque è troppo carino, mi piace tanto Vediamo gli altri Qui abbiamo Oh, Maggie Con l'aiutante di Babbo Natale E cioccolineve Sono bellissimi Questo mi piace tanto Ok, andiamo avanti Vediamo chi c'è qui E qui abbiamo Smithers Ovviamente Ho fatto il Signor Bones Devevo fare Smithers anche Ed è veramente carinissimo Guardate come si luccica Bello, mi piace E qui abbiamo Homer Con spider pork Raga Non vedevo l'ora io di vedere questa Perché adoro spider pork E niente Qui ce ne sono altre due Che avevo messo da parte Perché non erano ancora asciutte Ma adesso si sono asciugate E qui abbiamo Otto Che è l'autista Dell'autobus Dove viaggia Bart Per andare a scuola Bart e Lisa E qui vediamo chi c'è Qui abbiamo Ole Qui c'è tutta la famiglia Marge Homer Bart Lisa E Maggie E questa mi piace Veramente tanto Devo dire Molto carina Ovviamente poi ci sono Tantissime Imperfezioni Da ritagliare E niente Queste sono le creazioni Con l'accalto di oggi Devo dire che la mia preferita È questa È troppo carina Maggie L'adoro E niente Io spero che questo video Vi sia piaciuto Ma soprattutto Che vi sia stato utile Mi raccomando Non vi dimenticate Di votare a sondaggio E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao